Cari fratelli e sorelle, mi sembra che la frase iniziale della seconda lettura di questa domenica abbia qualcosa di straordinario e sconvolgente, se lasciamo che parli veramente al nostro cuore. Ora, afferma San Paolo qual è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. Qual è questa volontà di Dio in Cristo Gesù? Lo sappiamo, è la nostra salvezza, è la pienezza della vita, è la vittoria del bene, è il renderci in Cristo Suoi figli, figli adottivi ed eredi. Lo abbiamo ascoltato domenica scorsa e nella festa dell'Immacolata. Ma la frase che anticipa questa volontà di Dio in Gesù, che è volontà di salvezza per tutti e sempre, aggiunge tre osservazioni, quasi tre comandi fondamentalmente, e detti con intensità, il primo comando è siate sempre lieti, il secondo è pregate ininterrottamente, e il terzo è il terzo, in ogni cosa rendete grazie. Mi domando sovente, ma è possibile comandare questo? Credo che dal punto di vista umano e dal punto di vista esperienziale di ognuno di noi, non sia così. Senza dubbio, come desiderio, vogliamo essere sempre lieti. E siamo anche disponibili, credo, come desiderio, se persone di fede, ad avere la mente in Dio, quindi una preghiera ininterrotta. E vorremmo una relazione corretta con la nostra storia, con gli avvenimenti e con le persone, in modo da trovare motivi di ringraziamento e di gratitudine. Ma l'esperienza, il limite della nostra vita, le incomprensioni e gli avvenimenti della storia ci impediscono di vivere queste realtà in una forma così continua come vorrebbe Paolo e come sarebbe la volontà di Dio in Cristo Gesù per tutti noi. Ma se è impossibile letteralmente, lo può diventare reale nella vita ad una condizione. Ed è San Paolo stesso che lo ribadisce immediatamente dopo. E la condizione è di non spegnere la voce dello Spirito che ci è, che è dentro di noi, che ci è stata comunicata attraverso il Battesimo. Non spegnere questa sorgente che Dio ci ha inserito nel nostro cuore, che è poi il dono della fede. Non disprezzare quella voce che è interiore della coscienza, che è la voce di Dio. E metterci, dice ancora Paolo, a vagliare ogni cosa, a renderci conto di quello che capita cercando di setacciare e di conservare ciò che è bene, trascurando e mettendo da parte ciò che è male. I momenti di vera gioia, di preghiera autentica e soprattutto di gratitudine, anche se a volte potrebbero sembrarci pochi, se li valiamo, se li conserviamo, se li vediamo momento per momento nella nostra vita, arrenderanno tutta la vita, una vita di vera gioia, di preghiera interrotta e di gratitudine. E copriranno, ecco, tutti gli avvenimenti che vanno in altra direzione. Saremmo stati capaci di valiare e tenere veramente il bene e fare sì che questo bene abbia il lameglio su tutto e recuperi le condizioni negative. Diventeremo in questo modo capaci e portatori di giustizia, di verità e di pace. E quanto diceva anche il profeta Isaia, il testo del profeta Isaia è importantissimo anche perché Gesù nella sua prima predicazione, quando si presenta ai suoi concittadini a Nazareth nella sinagoga e per la prima volta prende ufficialmente la parola, commenta questo testo e lo applica a se stesso. Lo spirito del Signore, lo spirito di Dio è su di me, mi ha consacrato con la sua unzione e mi ha mandato a portare questo lieto annuncio, questa gioia che deve rimanere sempre. E mi ha mandato a portarla, incominciando da chi apparentemente è più lontano dalla situazione di gioia e di sicurezza, come sono i miseri. Mi ha mandato a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà e con la scarcerazione a promulgare l'anno di grazia del Signore. Quanto sono belle queste parole vere viste in Gesù e quanto sono necessarie sempre e quanto le sentiamo necessarie in questo particolare momento della nostra storia e della storia di tutta l'umanità. Abbiamo bisogno, ecco, di questo spirito, di questa vita cristiana che faccia di ognuno di noi in questa situazione di pandemia comunque dei portatori di un annuncio, di un annuncio lieto che è il Vangelo e soprattutto capaci di fasciare le piaghe, le piaghe fisiche, ma soprattutto le piaghe dei cuori e quanti cuori si stanno spezzando e capaci di dire quella parola che libera incominciando dalla mente, dal cuore e dallo spirito di ogni persona. Ecco a questo il Signore ci abilita e ci manda, ci rende capaci, perché quello spirito che era su di Lui, quello spirito che Dio ha messo fin dalla creazione del mondo sull'intera creazione, non se n'è andato, non è fuggito da questa terra, non è lontano, non ci ha abbandonati, è ancora presente, ma tocca a noi, ecco, riuscire a riconoscerlo e tocca a noi soprattutto sentirlo presente dentro di noi, aprirgli la porta del cuore e della mente perché si sprigioni e porti frutti di gioia, di gratitudine e di quel pensiero costante in Dio e nei fratelli. Ecco, questi sono i temi, ecco, della prima parte della liturgia della parola di questa terza Domenica di Avvento, che ci quasi indica la nostra vocazione di cristiani come persone che donano al mondo la gioia e la donano con la loro testimonianza di vita completa. Ma c'è anche il testo del Vangelo, il Vangelo di Giovanni, che ci presenta come domenica scorsa, però, domenica scorsa era l'Evangelista Marco, la figura di Giovanni il Battista. Ce lo presenta però in un momento particolare di domande, di domande. Non ci presenta Giovanni che sta battezzando, ma piuttosto un Giovanni che viene interpellato, interpellato dai sacerdoti, dai leviti, da quelli che allora avevano nelle loro mani ecco, la storia di fede e civile del popolo eletto. I sacerdoti e i leviti lo interrogano, gli buttano, potremmo dire, addosso una serie continua di domande. Ma tu chi sei? Ecco, sei forse il Cristo, sei Elia, che si pensava dovesse tornare, sei uno dei profeti. E se non sei questo, allora dici qualche cosa. Perché fai questo? Perché battezzi? E Giovanni sta alle domande, non fugge lontano da queste domande, risponde. E risponde senza fingere. Avrebbe potuto fingere, avrebbe potuto dire sì, sono io il Cristo. Avrebbe potuto cercare, tra virgolette, il proprio interesse personale e la propria riuscita. Avrebbe ottenuto di sicuro applausi e forse maggiori persone ancora che andavano dietro di lui. No, Giovanni sta alle domande, non rinuncia a cercare la risposta e non finge nelle risposte. Ecco, anche per noi deve avvenire qualche cosa di simile. Anche noi dobbiamo imparare ad ascoltare le domande vere e autentiche, che provengono da ogni luogo. Quelle che portiamo dentro di noi alla ricerca del significato della vita e dei nostri comportamenti. Quelle che ci vengono dall'esterno, dalla storia. Quante domande, ecco, questa pandemia e questa situazione mondiale ci porta. Quelle che ci vengono dall'intera situazione creaturale. Anche noi dobbiamo rispondere a chi siamo. E dobbiamo dircelo con certezza. Non siamo i creatori, non siamo i padroni, non siamo forti, ma siamo pieni di fragilità. Scopriamo continuamente le nostre debolezze. Siamo creature e abbiamo bisogno di ritornare e di riscoprire colui che può darci una mano e riportarci alla verità. Ecco, ascoltare le domande che ci sono in noi, attorno a noi e che continuamente ogni giorno ci arrivano. Ed è importante questo. L'ascolto è il primo elemento, il primo verbo della fede. Se non ascoltiamo, ma non cose qualsiasi, le domande vere della vita, ben poco di fede riusciremo a testimoniare. Ma se ascoltiamo e tiriamo fuori queste domande senza paura, senza fingere risposte semplici o di interesse, senza eluderle, ecco il Signore ci accompagnerà a crescere nella fede e soprattutto a diventare i Suoi testimoni. C'è una parola chiave nel Vangelo di questa domenica. E come ho fatto nelle altre che ho indicato una parola, vorrei farla anche quest'oggi. Ed è la parola testimone o testimonianza. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni e egli venne come testimone. E poi c'è il verbo, per dare testimonianza alla luce. E poi questa è la testimonianza di Giovanni. Se andiamo a vedere il termine che il Vangelo pone nell'originale greco, il testimone e il testimoniare è il verbo del martirio. Martiria. Ascoltare le domande senza fingere risposte, ma cercando la risposta vera, ci porta a diventare anche noi testimoni di quella testimonianza vera che ci fa martiri di Cristo. Non avremo più bisogno di parole per dire la nostra fede, perché la parola si incarna in noi come si è incarnata in Gesù. Il verbo si è fatto carne. La nostra vita diventa automaticamente espressione di questa parola, diventa carne della parola, diventa testimonianza, diventa eloquenza. E ci permette di vedere che il volto del nostro fratello e della nostra sorella è il volto di Cristo. Ci permette di riconoscere che chi è in difficoltà e in sofferenza è lì, il Cristo nella carne. Ci permette di sentire che ci possiamo avvicinare come Cristo, da buoni samaritani, e fare la nostra parte. La testimonianza, il martirio, ma il martirio nella carne in ogni giorno. E questo testimonianza, questo martirio farà di noi dei tanti Giovanni Battista che sanno portare in questo mondo, in questi giorni, in questa situazione, quella che è la luce di Cristo, che è tenerezza, curo, conforto. Sanno portare quella voce che rende la testimonianza di una presenza e di una verità che è ancora una volta il Signore crocifisso e risorto. E ci renderà in questo modo capaci di quei tre verbi e di quei tre impegni che San Paolo ci ha detto all'inizio. Ci permetterà di essere veramente lieti in qualsiasi situazione, perché la gioia è quella che viene da Lui. Ci permetterà di avere un atteggiamento costante di visione e quindi di preghiera, anche quando fisicamente non preghiamo. E ci renderà grati in ogni cosa, in ogni incontro, in ogni avvenimento. Ecco che sia così. Chiediamo questo dono, il dono di questo martirio di testimonianza, che nello Spirito ci permette di essere persone capaci di preghiera ininterrotta, di gioia sempre e di rendimento di grazie in ogni momento e per ogni cosa. Amo. Grazie.